Non hanno fatto questo, quasi nessuno, tutti partivano prima, cosa vuol dire? Vuol dire che partivano pensando solo all'inserimento e non pensando al tempo, che partivano solo guardando la palla e non guardando il compagno. Invece questo inserimento è relazionale, è in funzione del compagno, come deve essere sempre in un gioco del calcio. Ecco perché le punte incrociano, ecco perché gli esteri si sovrappongono, ecco perché esiste il velo, ecco perché c'è il blocco, ecco perché ci sono le situazioni nelle combinazioni a due, tre, quattro, cinque giocatori, ecco perché durante questa progressione ho strutturato e destrutturato sempre il rapporto, palla giocatori, abbiamo giocato a due, a tre, a quattro, a sei e fra poco giochiamo a otto. Siamo partiti facendo semplicemente girare la palla, siamo partiti semplicemente sul dare e ricevere, abbiamo inserito la condizione di palla, abbiamo inserito certe situazioni in cui in ritardo, possiamo inserire la finta, possiamo inserire il dribbling, abbiamo inserito gli inserimenti, possiamo inserire il cortolungo delle punte, abbiamo inserito un reparto difensivo, abbiamo lavorato sulle patte, abbiamo lavorato sulle catene, possiamo fare, impostare, sviluppare, concludere il gioco, tutto semplicemente partendo da otto parole e con otto parole gestisco tutto. A quel punto i ragazzi hanno capito e se in due ore non ce la faremo, in dieci anni che è il tempo che ha un settore giovanile, ce la si può fare, ma molto bene, non bene, molto bene, ce la si deve fare e se non ce la fai è perché hai sprecato il tempo a fare fuorigioco, hai sprecato il tempo a come vincere la partita, hai sprecato il tempo a fare cose che non costruivano il giocatore e la squadra, ma che servivano semplicemente a vincere e a dire che hai vinto al posto suo, hai vinto la sfida, quella importante, quella del bar, quella che vai e dici io ho vinto, non hai vinto niente, non hai vinto niente, hai creato l'illusione nei tuoi giocatori di aver risolto il problema e sono ancora la base della montagna, pensano di essere in cima perché hanno vinto la partita, perché hanno vinto il campionato, perché hanno vinto il torneo, sono ancora la base, e devono ancora camminare e là l'ossigeno è poco e non li ha i treparati, quando arrivano là e non hanno la maschera e l'ossigeno devono tornare indietro, non c'è...